L'equivoco più grande in cui cade ogni uomo riguarda il potere di Dio, perché secondo alcuni l'Onnipotente è il dominatore assoluto della nostra realtà e quindi ci obbliga alla sua volontà. E l'uomo che vuole seguire le indicazioni di Dio deve mettersi in ascolto della volontà di Dio e non attuare la sua volontà, ma la volontà di Dio. Altri, ma sono pochi, credono e sentono Dio come il massimo dispensatore di libertà. Sono pochi, perché normalmente a Dio è associato non un servo della realtà, ma un dominatore, ossia chi plagia la realtà. E arriviamo all'assurdo di un Dio che crei inferiori a lui per esserne osannato, pregato, glorificato. se Dio fosse così, che squallido sarebbe questo Dio che crea per la sua vana gloria di essere lodato, che fa il bene per essere glorificato, che crea gli uomini mortali, sottoponendoli poi a un giudizio terribile, affinché domini, dopo di avere diviso e fatto come un qualunque Cesare che prima divide e poi comanda. Dio non è così. Dio che cos'è? È la forza nascosta, nascosta, originaria, quella che esiste prima di ogni altra forza, quindi quella assoluta, che non è nel tempo, ossia in una esistenza che abbia i limiti del prima e del poi. È un assoluto senza alcun limite. Questa è la condizione di Dio. Essa rischia però di essere la vittima di se stessa, perché una esistenza che esiste solo in potenza di esistere, ossia come una pura potenzialità, è simile a uno scrittore che abbia un bel romanzo nella sua testa e non si decida mai a metterlo giù in modo ordinato e per iscritto, oppure a dirlo a voce, in modo che questo suo disegno passi dalla condizione potenziale dell'esistenza a quella reale. Ecco, una necessità divina dell'assoluto, condizionata proprio dalla assoluta mancanza di vincoli. Impone. È difficile pensare che qualcosa possa essere imposto a Dio, ma è Dio che lo impone a se stesso. Di non avere limiti e se l'assoluto rischia di essere un limite nel suo esistere in potenza, allora si mette anche in atto e la duplicità dell'esistenza in potenza e in atto determina quella contrapposizione tra l'indeterminato e il determinato che libera Dio della sua stessa indeterminazione. Il Dio 1 assume dunque la valenza di una sostanziale equazione tra quanto esiste in potenza di Spirito Santo in uno dei due membri dell'equazione e quanto esiste in atto nel membro opposto, diviso in due enti assoluti uguali e contrari tra loro, come il padre unico del suo figlio unico, ma tanto legati tra loro da un assoluto amore da riunire tutto il diviso. Questo amor puro è il nome proprio che possiamo assegnare allo Spirito Santo di Dio e che procede dal padre e dal figlio e insieme li rende un essere un essere unico senza nessuna solitudine, ma un amor vivo in se stesso. Sì, proprio il padre, il figlio e lo Spirito Santo della fede rivelata da Gesù Cristo. Tre entità in atto perfetto nell'amore a costituire una unità assoluta e dunque trinitaria, proprio perché è assoluta, priva del vincolo di essere uno essendo tre, priva dei vincoli uno e tre essendo uno più tre quattro e poi quattro per due è otto e dieci e cento e mille, insomma ogni possibile numero. La potenza di Dio entra in atto reale attraverso il numero dieci, che associa uno con zero, ossia quanto in atto di un calcolo unitario con quanto è in potenza zero di quel calcolo. Il numero dieci è assieme dieci quando letto da sinistra ed è zero uno quando è letto da destra. Il suo valore assoluto, che non dipende dalle letture, e quindi consideri le due opposte letture, è dieci più zero uno uguale undici. Il Dio trino, costituito da tre dieci, è 30 letto da sinistra ed è zero tre letto da destra. Quando è assoluto è 30 più zero tre più 33, la vita di Gesù Cristo. Il Dio, uno come la dimensione dieci, sommato al suo opposto trino è dieci più zero tre uguale a tredici. È chiaro, l'opposto trino è l'opposto del trenta. Il Dio, dimensione dieci, sommato ai due opposti zero tre che danno un intero zero sei, è dieci più zero sei uguale a sedici, ed è il piano il cui lato è uno più tre, l'unità divina sommata alla sua trinità. Ebbene, abbiamo ottenuto varie dimensioni, sicché uno più undici più tredici più sedici sono lo Spirito Santo dell'unità di Dio, e l'intelligenza dello Spirito lo nomina Amor, creando il linguaggio alfanumerico della Kabbalah ideale. In questo modo matematico domina Dio, usando veramente il dieci a creare l'infinito universo. lo pone in atto, dividendo il dieci per il dieci privato della sua unità, dunque per il nove. Il risultato di dieci diviso nove è uno virgola uno uno uno, l'eterno decimo del ciclo dieci precedente, tanto che è dieci più zero uno uguale undici per sempre. È in questo modo matematico che l'assoluto, dato dalla dimensione dieci di Dio, che associa la divina potenza al suo reale atto, si trasforma da assoluto in una infinita determinazione presente in atto. Essa si mette a servizio dell'esistenza e, dominandola nel mentre la serve, è onnipotenza. La divina onnipotenza esalta la sua potenza, proprio attraverso il servizio. Pertanto, nel nostro mondo reale, il Dio onnipotente si è asservito all'uomo, è servo per amore. Non è il despota che vuole servi, ma quell'amore superbo, grandioso, che nega se stesso, nel vero amore per ogni figlio, generato come la parte viva e reale di se stesso.